Sono fatti tecnici, non sono mai fatti politici. Grazie. Come non sono mai fatti politici? Sono fatti tecnici. Sto andando a firmare le missioni? Di fatto quello che sta accadendo viene eletto in un altro modo? No, non mi hai eletto, non mi hai eletto mai. Il PD è unito e lavoriamo in queste ore per arrivare alla conclusione. Grazie. Mi dimetto? Grazie. Noi sì, grazie.